Diritti, doveri, volontariato. Credo che per ragionare attorno a queste tre parole sia il caso di partire dalla Costituzione italiana. La Costituzione italiana, dicono gli studiosi, opera a tre livelli fondamentali, i cosiddetti diritti di libertà, i cosiddetti diritti di solidarietà e contemporaneamente i correlati doveri di solidarietà. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che i diritti non esistono se non correlati ai doveri. Nella relazione tra diritti e doveri nasce la responsabilità, ovvero ognuno di noi ha contemporaneamente diritto, ad esempio, ad esprimere il proprio personale parere, la propria personale posizione politica, la propria libertà di opinione, ma ha nello stesso tempo il diritto di essere aiutato ad esprimerle, di essere rispettato e l'impegno correlato a fare in modo che anche altri, tutti gli altri, possano esprimere la loro opinione personale dal punto di vista culturale, dal punto di vista politico. Questo si chiama dovere di solidarietà. Io ho diritto di essere aiutato, ma anche, la Costituzione dice, l'Italia come Repubblica, quindi come società, ha il dovere di rimuovere gli ostacoli che rendono impossibile o difficile l'essere cittadini attivi, cittadini critici, cittadini partecipi alla vita della propria comunità. Qui si colloca il ruolo del volontariato. Noi viviamo in una società nella quale sembrano prevalere i diritti, i diritti miei contro i diritti altrui, molto spesso. In realtà non esiste la possibilità di avere diritti se non c'è qualcuno che li rispetta e se non c'è correlata una società nella quale responsabilmente vengono portati avanti quelli che sono i doveri. E' davvero nel tempo in cui noi viviamo oggi un mix piuttosto complesso. La parola che unisce, ho detto, diritti e doveri è la parola responsabilità. Da questo punto di vista assumere responsabilità è una delle caratteristiche del cittadino volontario, cioè assume la responsabilità di rendere possibile per tutti la vita, l'estrinsecazione, la realizzazione dei propri diritti e per farlo ricorda contemporaneamente a tutti e ad ognuno che esistono dei doveri. Senza questi doveri non esistono diritti. Ecco allora che possiamo guardare a questa dinamica in maniera, come dire, con una zoomata, dal piccolo al grande. Noi andiamo da diritti e doveri di responsabilità a livello internazionale, a livello globale, ha diritti e doveri a livello locale, a livello piccolissimo, a livello di interazione tra persone, nella vita quotidiana nella scuola, nella vita quotidiana nella famiglia, ma anche a un livello appena superiore nella vita del nostro quartiere, nella vita della nostra città, nella vita del nostro paese, nella vita delle interazioni a livello mondiale. Proviamo ad esempio a pensare a quelli che chiamiamo stranieri, ai profughi, ai migranti. Il diritto di migrare corrisponde al dovere di ospitalità. Il dovere di ospitalità oggi è messo radicalmente in crisi da concezioni politiche, da modi piuttosto egoistici di pensarsi all'interno del mondo, per cui siamo tutti pronti a dire che esiste il diritto ad esempio all'asilo, ma nessuno di noi o molti pochi di noi sono pronti a trasformare questo diritto all'asilo in dovere dell'ospitalità e in questo modo in responsabilità per spingere, per aiutare le nostre istituzioni a costruire e a realizzare percorsi che rendano davvero efficace, che rendano davvero reale il diritto altrui. In questo davvero il mondo del volontariato è un mondo profetico, è capace di sottolineare come senza responsabilità non abbiamo né diritti né doveri, senza doveri non abbiamo diritti e se i diritti non vengono rispettati a partire da un principio di responsabilità nei reciproci doveri, viviamo in una società nella quale ognuno in realtà rischia di essere il lupo per l'altro uomo. Grazie a tutti!